iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video Gesù Cristo benvenuti in questo messaggio di Carbonia del 25 dicembre 2021 io Dio ho supplicato l'uomo di tornare a me ma il suo cuore è ormai freddo il mio amore Natale è il bimbo che nacque in una grotta il Dio incarnato disceso dal cielo per portare la salvezza al suo amato popolo triste fu la mia passione e oggi sarà provata su di voi che mi avete rinnegato la vita sulla terra non è più vivibile un grande disastro succederà a causa della ripetione dell'uomo al suo creatore l'uomo è ormai preda di satana che impera elementi e resi ciechi e sorti di manovra secondo i suoi principi di educa il male poveri uomini ma una grande luce si radierà nel cielo e il rombo di un tuono ruggente avvertirà che il Signore è alla sua manifestazione egli si mostrerà al suo popolo e chiederà per l'ultima volta di riconoscerlo quale unico vero Dio metterà l'uomo sua creatura davanti alla scelta o me o contro di me popolo mio popolo ingrato che male ti ho fatto sono tutto amore amore infinito desidero attentemente assorbirvi in me farvi uomini di amore e carità ma voi mi rinegate non volete il mio bene bramma del mondo il peccato desiderate soddisfarvi nella carne siete divenuti lussoriosi siete ibridi il male vi ha ciecato e vi ha segnato in sé il suo vereno scorre nelle vostre vene non ragionate più con la vostra testa siete sottoposti alla schiavitù di satana l'ora è giunta perché i vostri occhi vedono i vostri errori ma sarà troppo tardi per tornare indietro ho orlato a voi tutto il mio bene vi ho chiesto di tornare a me pentiti dei vostri peccati vi ho supplicato la salvezza io Dio ho supplicato l'uomo di tornare a me tanto è il mio amore per lui ma il suo cuore è ormai freddo al mio amore il tempo che io intervenga non abbandonerò alle sudice mari di satana e i miei figli ora vedrete realizzarsi una dietro l'altra le profezie annunciate sarete messi alla all'agonia per la vostra stoltezza pianto estridore di denti ecco io vengo amen sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria gesù annuncia a tantissimi mistici nel mondo che sta tornando nella gloria e lo farà attraverso questo primo atto di contatto con l'umanità intera attraverso l'appartimento universale dove ognuno di noi avrà un incontro mistico con gesù e vedrà con la propria coscienza vedrà con gli occhi di dio la propria coscienza e dovrà scegliere se gesù o il mondo e questo sarà si può dire l'ultimo l'ultimo richiamo perché gesù dopo l'appartimento tuonerà con la sua giustizia per fare nuove tutte le cose in un mondo dove ormai satana ci ha educato attraverso una cattiva alimentazione attraverso cattivi sensi i nostri sensi sono stati educati al sesso all'alcol la droga alla bestemmia la nostra vita è stata educata nei supermercati davanti alla televisione e mai davanti la confessione la santa eucalistia allora questo mondo necessita di una grande purificazione che sarà causata da una serie di catastrofi tutte profezie che si devono compiere e lasceranno spazio a questi nuovi cieli a questa nuova terra dove gesù ci trasformerà in uomini che saranno imitazione dell'amore poiché l'amore è gesù cristo finalmente è uscito il mio libro la mia esperienza di conversione a meggiugori nel 2012 attraverso questa estasi con gesù cristo potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere grazie a tutti